Abbiamo messo un litro di benzina in due macchine uguali. Tutte e due hanno quattro freni a disco, il ponte de Dion, due carburatori a doppio corpo. Siamo al tredicesimo chilometro. Una si ferma. Ha finito la benzina. È una Giulietta. L'altra continua. Ma anche questa è una Giulietta. Sì, è la nuova Giulietta con consumi ridotti. Perché tutte le Alfa Romeo hanno ridotto i consumi fino al 14%. Alfa Romeo, quando la tecnologia è arte.